Benvenuti nel secondo video let's play di Slaps and Beans Chissò, io non volevo essere il ciccione No, io sono il ciccione Io faccio il ciccione Ok Che vado a spazio Dobbiamo raggiungere il treno Adesso i cavalli saltano Vedi la barra in alto Doviamo andare più veloci del treno Allora mi stai stressando Dobbiamo rapinare il treno Non fatti beccare dalle casse Lei arrivi, salta Ma è difficile questo Lo devo ammettere Ma se non l'hai provato Di fronte a milioni di persone Ti corri più in fretta Senti, mi stai stressando Dobbiamo raggiungere il treno, dobbiamo rubare la merce Game over tua madre Ce la puoi fare? No, provo ancora questa volta Se no fai provare a lui Non è colpa mia Fai provare a lui Come se salta? Come salta? Non sembra Non sembra Vai fatelo pezzi Evita le cose Dai, bisogna raggiungere il treno Eccolo Dai, dai Sì, salta, salta, salta Raffiniamo il treno No, ma deve salire Bello Si cade giù Non ti fai minchia Già ci sono i colgioni che ti fai picchiare Sono lì sul treno C'è da per tutti Perché a noi piace così Ah, cos'è A? Non lo so Però c'era scritto di schiacciare A Ah, perché passano quei cosi sopra il treno Sai, non so I semafo I ponti I semafo I semafo I semafo del treno Se vi sta piacendo il video Premete il like No, premetelo comunque Iscrivetevi al canale Mi raccomando, è importante Sei molto più vincente Una vita Lo sceriffo Ecco, questa via di... Arrenditi Il nome della legge No Ah, qui siamo entrati nel treno Siamo nel treno No, sono delle caramelle No, sono tipo mele candite mi sembrano Però non puoi mangiarle Puoi mangiarle? No, no, sono candelotti di... A noi a te non sembrano mele candite Sì Quelli col bastoncino dentro Ma sembrano un pomodoro Prova a prendere le mele Aspetta O i pomodoro Sì Eh, sono i candelotti Avevo sbagliato Sono dei candelotti Avevo ragione Io pensavo fossero mele Bravo Voi dicevate che erano sorini No, tu l'hai detto Tu l'hai detto che erano sorini E quelli a sinistra cosa sono? Non riesci a spostare? Eh, bistecche troppo rasatate Dai candelotti Ancora Tutti con la pistola Oh no Tu sei il P2 Il Pirla 2 Io il Pirla 1 Pirla Di nuovo Perché mi spieghi Perché devono cadere le mutazioni Perché noi siamo bravi Nei film Non hai mai visto i film No Alla fine non li uccidono mai Proprio Gli fanno cadere i pantaloni Staccano il cinturone Guarda che bel valigione Di nuovo i fagioli Vuoi le stecche Le stecche da bigliardo Ah sì Poi prendi È un classico Ma quanta gente c'è sotto il treno Ma infatti Ma poi guarda quanto è grande Ma infatti C'è Più grande della stazione il treno Le persone sono piccolissime È più grande dei binari Sì Veramente Ma perché tipo scorre sui binari Però È tipo Se pensate a quei camper americani Che si allargano Il vagone Sì Tipo come la Will Smith Poi è dei magneti Per sottenere la vostra spesa in aria O dei propulsori Tipo dei jetpack Dei lati Sto sparando stonfatti Dai Ma io voglio vedere le valigie È finite Sherif Ma ha una mitraglietta Ah No Mi Prendila Aia Ho capito Dobbiamo prendere Prendi il candelotto E glielo rilanci Ma lascialo lì va Sì ma non è giusto così Che lui ci ha toco la roba Per niente Sì È un boss Guarda che l'ho preso L'ho preso L'ho preso Lo sto sparando Ah ma puoi sparare con il tifo Sì A casa Però puoi sparare A casa A casa Non a caso Sì ormai è morto Cioè Questo è mio Questo è mio Bon Ottimo finale Ah abbiamo finito di girare il film Stavo facendo un film Visto che va Cioè era tutta una falsa Ma che figata Guarda adesso siamo entrati No ma adesso ci sta un sacco Guarda cioè Tutte le Stai proprio girando E adesso però voglio essere pagato Con i fagioli No Sì Perché c'è la ciria in testa Il cactus non manca mai Eh ma sono i cartoon della scenografia Non vedi che sono i cartoncini No veramente grazie Cioè veramente grazie Eh ma no ma è difficile definirlo con la grafica pixelosa Pixelosa Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate C'è Mike Tyson E ora picchiamo Mike Tyson Nooo si sta incazzando Vai dai Dei 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 Fa solo più rumore quando cade Stiamo Nooo Perché c'era una tipa con le tente di cuore Ma più che altro Non ci hanno ancora pagato per la nostra recitazione Prima ero col cappello mi riconoscevo Adesso sembra un Uno qualunque non riesco a capire che sono Io dico No Allora sono grasso Mi riconosco Eh sì Facci tra un po' Eh devi tornare Dietro Sì Perché Perché c'è il buco di là Il buco Quello Quello grosso C'è vabbè Con X lanci le cose Più volte Cosa ho capito Cosa ho capito Quello che l'hai fatto sembrare Voi donne siete sempre maliziosi Ma perché non fai entrare nei posti Siamo già in un posto Beh ma anche nelle porte Ok abbiamo constatato che non possiamo entrare nelle porte che vogliamo Eh Solo quelle dove ci vince il gioco Perché è un picchio duro a scorrimento Come quelli vecchi Comunque è bel tributo a Abad Spencer Sì comunque è bello Sì E Don Matteo E Don Matteo E stai così davanti Sì è un po' fuori fuoco Però è È perché mi vedo lontano Ho paura di non Ti vedi lontano Non vedermi nella telecamera Ma ci sei Guarda Non mi miso Ci sei Ti riprendo Dobbiamo andare da regista Che lui sta lì Diamo altri pugni nella ciriato No non c'è Ma guarda che la regia si sta muovendo Ah no è quello un proiettore C'è un proiettore È il proiettore del Del teorema che scorreva al primo Ma guarda che la regista Guarda che sfigata c'è sta lì a nascondersi al posto di fare qualcosa Ah Dice che è stato derubato quindi non ci può pagare Certo Grazie per la visione Abbiamo finito il livello western Adesso siamo nel film ispirato a Dune Buggy Se volete continuare 10.000 like se volete continuare Se no niente No vabbè Ma fallo finire Fallo finire Commentate e mettete tanti like se volete vedere altri video di questo genere di let's play E ci vediamo nel prossimo video Iscriviti Iscriviti ora se non l'hai già fatto Subscribe Subscribe now Ah date anche un'occhiata alla mia pagina facebook Se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video E se volete avere dei maggiori approfondimenti